Sono trascorsi già dieci giorni dall'inizio del nuovo calendario di conferimento dei rifiuti urbani ad Agropoli, ma purtroppo in città si assiste quotidianamente all'abbandono di sacchetti non conformi in quasi tutte le strade. Ad intervenire per fare il punto della situazione è il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Avrete certamente notato, come d'altra parte era prevedibile che in una prima fase si maturassero delle situazioni di piccola crisi della raccolta dei rifiuti, perché abbiamo preso atto purtroppo che molti cittadini non faranno la raccolta nella maniera giusta. Era prevedibile che in questi primi giorni rimanessero dei rifiuti a terra. Interverremo subito in maniera decisa, perché si stanno creando addirittura delle microdiscariche, cosa che assolutamente non deve capitare, quindi abbiamo concordato con la SARM per domani un'ulteriore pulizia della città. Da domani cominceranno i controlli in collaborazione col corpo della Polizia Municipale e quindi raccomando, insomma, non faremo ancora verbali, però raccomando ai cittadini di cercare di essere più precise nei conferimenti. Io però sono sicuro che nei prossimi giorni vi daremo degli aggiornamenti però su come i dati della raccolta sono migliorati, perché stanno migliorando in maniera evidente. Ma sono sicuro che nelle prossime settimane la cosa migliorerà e andremo tra poche settimane a normalizzarci, dando nuovamente una città pulita come sempre, ma questa volta con un risultato di raccolta differenziata migliore.